Ciao a tutti! Eccomi qua di nuovo. Come state? Qua c'è un freddo, non tantissimo perché comunque vabbè, segna 10 gradi. Però c'è proprio bigio e settimana prossima a Verona è previsto anche meno 3. Vabbè, è arrivato il freddo. Insomma, non sono tanto contenta però mi vestirò ancora di più. Non sono vestita proprio a strati. No, l'unica cosa invece è che dovrò prenotare il meccanico e cambiare le gomme e mettere quelli invernali perché di solito Verona non nevica, non è un posto dove nevichi così. È capitato, sì. Comunque ho nevicato un paio di volte ma più che altro sporca la strada, magari dura uno, massimo due giorni. Però mi sento più sicura, anche se magari devo fare un po' di chilometri, anche soltanto per andare tipo in giro se piove, ok? Mi sento un po' più sicura di avere le gomme invernali. Quindi dovrò fare anche questo. Oddio! Allora, sono un po' indietro con i video. Vi faccio vedere un po' di cose che ho comprato da Ikea, poi sono a Taliesi Lunga, vabbè ho preso solo due stupidate e a Natura sì. E vedo di farvelo stare tutto qua dentro. Se mi chiedete il rossetto invece che ho, è della NYX, è un rossettone, adesso non mi ricordo, ce l'ho in borsa. O forse l'ho lasciato al lavoro. Comunque questa mattina le 7 che ce l'ho addosso, bevuto, mangiato, cioè è qua, perfetto. E sono un quarto alle 1, quindi direi che... Infatti quando si stende, poi l'ho impressata la mia collega, una amica collega, e mi fa ma mi sembra di avermi steso la malta addosso. Mi fa ma dopo va via? Ho detto mi vengono via le labbra. Ho detto no, sì, fa effetto proprio malta spalmata sulle labbra, però comunque viene via. È che almeno siete sicuri che vi dura tutto il giorno, tra le altre non sbave in giro, quindi... Buono. Allora, inizio subito con quelle cose di Ikea. Bando poi alle ciance. Allora, ho trovato lo scontrino, sì, giusto. Più o meno. Se mi manca l'altro. Vabbè, probabilmente l'ho buttato via. Comunque, semplicemente, dalla bottega svedese ho preso le loro patatine, quelle con... Come si chiama? Cipolla e panna acida a 1,50 euro, quindi niente di che. Il costo è sempre uguale. Poi ho comprato questo qui. Vedete? Io di solito lo uso, tipo nella scarpiera, poi ci metto le scarpe sopra, oppure nei cassetti per le pentole, perché è molto resistente. Non graffia, fa sì che, insomma, non si graffino gli armadi o i cassetti. E in più è lavabile, quindi a me nella scarpiera piace un sacco, perché quando poi faccio il cambio delle scarpe, passo un po' di liso, forma quello, come si chiama? Antibatterico, igienizzante, comunque una spugna bagnata e da posto. Però volevo cambiarlo, perché, insomma, è sempre quello da anni e l'ho trovato. Non si trova sempre, ho sbaglio. Mi pareva che le altre volte non ci fosse, non lo so. Comunque, questo costa... Quanto costa? Ne ho presi due. Ma com'è? Barriera si chiama. Qua invece c'è, samla, samla, barriera, ok, 2,99 euro, quindi non pochissimo, però veramente è lungo, è lungo. Ce n'è un sacco, vedete? E comunque vi dura, anche perché basta che tagliate i quadratini che vi occorrono in modo da non sprecare il prodotto. Poi ho preso di nuovo le mie solite scatoline, perché veramente io ci metto dentro di tutto. Ho rifatto i cassetti con il trucco e dentro ci ho messo gli ombrettini, sia quelli della Neve Cosmetics, che sono piccolini e vanno in giro, sia gli ombrettini della NYX, quelli mono, insomma, per intenderci. Quindi sono stra comodi e non costano tantissimo. Allora, questo qua è, si chiama, ha un nome, boh, allora guardiamo, 800, 985, finisce con 8,3, ok, quello qua costa 2,50 euro, però dentro ce ne sono 3 e avete i coperchini, a me piacciono e mi trovo bene. Poi ho preso un sacchetto delle immondizie, queste qua arancioni, mi piaceva proprio il colore, e l'ho pagato, se non sbaglio, 99 centesimi. Tra le altre, mi hanno fatto, vedete lo scontrino, è venuto fuori tutto mezzo cancellato, insomma. Comunque, sacco, sì, 99 centesimi, sono 20. Eccolo qua. Poi, ho preso i soliti sacchettini, quelli per il freezer, io di solito prendo questi qua da un litro, dentro ce ne sono 50, mi piacciono, non male. L'unica cosa è che l'altra volta avevo la bustina che qua si richiudeva, quella si sigillava, no, non così, quella con la clips per intenderci. E l'avevo riciclata per metterci dentro delle cose, invece stavolta hanno fatto economia. E questi, Sornibar si chiamano, mi piacerebbe tanto che mi scrivessero in italiano. 0,99, anche questi qua. Poi, ho preso questi, sono quelli per chiudere i sacchetti, ma il bello di questa confezione è che ce li avete grandi, e qua piccoli. Io quelli grandi ce li ho, ma veramente non bastano mai, e quelli piccoli mi mancavano, a volte uso quello grande, ma è un po' ingombrante per un sacchettino piccolo. Ce ne sono 20 piccoli e 10 grandi. Questo l'ho pagato 2,50 euro di 30 clips, quindi direi che, insomma, è buono. Poi ho preso dei contenitori fatti così, col tappo giallo. Sono molto comodi, anche tipo in estate, se volete mettervi dentro dei pomodorini, delle mozzarelle. Ce ne sono dentro tre, io ho pensato quello, tipo alla merenda al lavoro, anche della frutta. E sì, sono un po' in gradini per portare in borsa, però comunque ci stanno un sacco di roba. Questi si chiamano pruta, detta proprio come la leggo, e li ho pagati 99 centesimi, quindi me li hanno tirati nella schiena. Poi ho preso questo piccolino qui, le classiche loro contenitori, i classici loro contenitori Samla, col suo coperchino. Questo è bello perché il coperchio, a differenza di quelli grandi, non si appoggia soltanto, ma si incastra. Comunque Ikea ha fatto anche adesso i gancini, quelli di plastica, anche per quelli grandi, io non li ho presi perché comunque non mi servivano. Sono tutta scompigliata. Però questo è bello perché si chiude. Allora, questa piccola, che il codice è 701 029, l'ho pagata 1 euro, il questo. Il sopra, che il codice è 101 103, l'ho pagata 80 centesimi. Quindi di 1 euro e 80 voi avete tutta la vostra scatola completa. Non so ancora bene cosa ci metterò qua dentro, ma di solito trovo sempre cosa metterci dentro. Poi invece ho preso un'altra di queste qua, 99 centesimi, senza coperchio. Tante persone ho visto che poi ci abbinavano anche il coperchio, ma a me sinceramente non mi serve, perché comunque metto dentro anche di là, tipo, varie scatoline con dentro gli orecchini, braccialetti. Li ho usati per le calzamaglia, ho messo tutte le calzamaglia qua dentro. È comodo. Poi per il prezzo che ha io devo sistemare anche il garage, quindi probabilmente se non trovo dove localizzarlo qua a casa, lo porterò in garage, anche perché ha 99 centesimi. Poi ho preso il mio solito tappetone da doccia, quello che ho, grigio, bianco e nero, è fantastico. Secondo me questo è un pochino più sottile, però a me piace tantissimo perché si asciuga in un attimo. Anche quando l'ho lavato in lavatrice si asciuga veramente nel giro di poco. Volevo appunto qualcosa da dare un po' il cambio a quell'altro. E l'ho preso rosso, fa molto natalizio, ma ho intenzione proprio di usarlo in questo mese. Costicchiano, eh, questi tappeti qua costicchiano. Mi piacevano, mi sarebbe piaciuto anche quello proprio più grande, proprio da stanza, per intenderci da camera. Costava 10 euro, però. E sì, per un tappeto non è che sia poi questa cifrona. Però io non sono tanto amante dei tappeti, piuttosto prendo anche i tappeti quelli a 2 euro al mercato, che sono belli, ma... No, qua non ne ho da farvi vedere. Sono belli, ma sono molto da battaglia, perché prendo, butto in lavatrice, 30-40 gradi, come mi capita. Questo si chiama Badaren. E costa la bellezza di 4,99 euro. Quindi capite che per un tappetino così piccolino, insomma, sono soldi. Però mi piaceva troppo rosso. E poi mi sto trovando veramente bene con quello là, quindi... Io ho preso un altro contenitore Samla, questo qua gigante, perché questo era di mia madre. Io l'ho rubato e l'ho utilizzato per metterci dentro tutte le borse. Proprio qualsiasi borsa l'ho buttata dentro. Quelle di marca le ho avvolte, tipo, in sacchetti di carta, nelle loro confezioni. Quindi le ho messe tutte in ordine. E le ho messe dentro all'armadio. In modo, perché prima... Non ve l'ho mai raccontato, ma prima io le borse le appendevo agli appendini. Ok? I classici appendini delle maglie. E le agganciavo. Poi ho detto, sì, ma secondo me uno era troppo un casino sceglierle. Quindi a volte le borse che avevo indietro non le usavo neanche mai. E poi ho detto, ma secondo me tra le altre diventa troppo pesante per l'armadio stesso. E allora ho deciso semplicemente di prendere la scatola, che comunque mia mamma non la stava utilizzando, e di buttarci tutto dentro, di metterle, anche perché ho un armadio, un'antafa ad angolo. Quindi l'angolo non veniva mai utilizzato perché i vestiti nell'angolo sono veramente scomodi. Così ne ho approfittato, l'ho infilata lì, bene incastrata, in modo che quando mi occorre una borsa, devo semplicemente tirar fuori questa confezione qua. Si fa anche presto, comunque, rispetto a prima. Ecco, poi vi faccio vedere soltanto cosa ho preso alle Selunga. Per il Naturastip vi farò un altro video, così a me non ne approfitto, perché altrimenti sono a secco di video. Non ho più tempo di registrare un tubo. Alle Selunga ci sono i mini panettoncini. Allora, o meglio, questo è il mini Pandoro, Pandoro di Verona Bauli. E poi c'è il panettone al cioccolato. Di solito sono fissata con gli ingredienti del panettone, però è veramente un problema, del Pandoro il panettone. La Bauli li ha fatti buoni, ha messo nuovi inci, nuovi ingredienti, che non hanno sciroppo di glucosio, hanno lo zucchero normale, che insomma è meglio dello sciroppo di glucosio. In più hanno la farina tipo zero, quindi uova fresche, usano le gocce di cioccolato, in questo caso, lievito naturale e non ha l'olio, ma ha il burro. Quindi Bauli ha sistemato un po' le cose, non per tutto, perché le brioche ancora mi pare non siano fatte bene. Poi l'astuce in cartone, eccetera, eccetera, va bene. Vediamo anche il Pandoro. Il Pandoro tipo zero, uova fresche, zucchero, lievito naturale, sempre zucchero e burro anche qua. Ha eliminato, mentre ho visto la d'alcolle, se non sbaglio, non vorrei dire una stupilata, ma penso sia proprio la d'alcolle, che ci ha messo dentro il sciroppo di glucosio e l'olio di palma, quindi mettiamoci dentro anche un po' di benzina, che così almeno siamo a posto. Invece un'altra cosa che sicuramente vorrò andare a prendere, ah, vi dico quanto li ho pagati, sono quelli piccolini comunque, eh. È che sono comodi perché almeno in due facciamo colazione, non c'è tanto spreco, quindi si mantiene fresco anche il Pandoro, il panettone. Costano 99 centesimi, quindi una miseria, e sono 90 grammi comunque. Però così si mantiene fresco. Ma volevo dirvi che adesso andrò a cercare quelli della Mele Gatti, perché non so se sapete la storia della Mele Gatti. Noi comunque di Verona, la Bauli è tra virgolette una delle più famose, però la Mele Gatti è stata la prima che ha creato il Pandoro. Proprio la vera ricetta è nata dalla Mele Gatti, la primissima. E ci sono stati dei problemi dopo quando si lasciano le ditte ai figli, alle mogli, così c'è sempre qualcosa poi che non funziona bene, a mio avviso. Perché io dico che i vecchi, io dico i vecchi, non nel senso vecchio di età, però i vecchi di solito sono sempre più inquadrati, più bravi nel gestire le cose, ecco. E sono riusciti a risalvarlo, diciamo. Quindi non hanno chiuso, sono contenta anche più che altro per le persone che ci lavorano dentro per essere sotto le feste di maniera a casa. Solo che hanno messo degli avvisi in giro che raccomandano noi di comprare questi Pandori, i Panettoni per attivare un po' insomma l'economia di questa società ditta. Quindi sicuramente di questa azienda. Andrò a prenderne un paio perché comunque è il primo Pandoro, è nato proprio con la Melegatti, quindi noi al nord, è la tradizione del Pandoro panettone, ma che poi tra gli altri panettoni mi sa che non sia neanche nostro. Ho idea solo il Pandoro sia del nord. Comunque noi, proprio sotto le feste, iniziamo a mangiare il Pandoro a novembre, finiamo ad aprile, quindi voglio dire. Ecco, e sicuramente andrò a recuperarli. Vi chiedo anche a voi, se volete un Pandoro così, il bauli è buonissimo, date un occhio a Melegatti e agli inci e prendetelo, almeno è proprio anche per un discorso di economia italiana, non solo del Veneto, ecco. Detto questo, vi saluto. Ciao!